Una BMW stava percorrendo via Trieste quando per motivi in via d'accertamento è andata a schiantarsi dopo aver travolto due cartelli della segnaletica stradale contro il muretto di delimitazione di un'area zendale, abbattendolo e terminando poi la soccorsa a lato sottatoria. È accaduto nel pomeriggio di domenica 9 aprile in via Trieste, angolo via Vallero a Rivarlo Canavese. L'uomo, dopo le prime cure da parte del 118, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, non pare in pericolo di vita, sul posto per i rilievi carabinieri della compagnia di Ivrea.